E' una delle celebrazioni più belle e suggestive che si svolgono a Gela. Si tratta delle cene di San Giuseppe, santo patrono per eccellenza della famiglia. Meravigliosi altari e banchetti votivi in suo onore. Diversi giorni prima della festa, numerose famiglie si dedicano all'allestimento di straordinari altari sui quali sono sistemate statuine e immagini del patriarca e della sacra famiglia. Gli altari sono decorati con fiori, ricami, ramoscelli di allori, mirto, aranci e pani votivi, questi ultimi lavorati con tale maestria da sembrare scolpiti. Ed ancora verdure, frutti, bevande, dolci. Un ringraziamento a San Giuseppe per grazia ricevuta con una cena per i più poveri. Tutte le cene hanno una storia a sé e nascono da episodi familiari risolti miracolosamente per intercessione della stessa sacra famiglia. Qui siamo nei locali della piccola casa della Misericordia. Tutto il ricavato va distribuito a tutti gli assistiti della nostra casa, anche perché ora siamo nell'imminente Pasqua, quindi faremmo modo di consegnarli prima di Pasqua. C'è anche un dolce che richiama la Bibbia. Sì, sì, una signora ha fatto, una nostra volontaria ha preparato questa Bibbia meravigliosa, questa torta a forma di Bibbia che veramente rappresenta San Giuseppe e c'è un bel passo della Bibbia. Anche per noi questa è una grazia perché tutto quello che ho detto, come ho detto, tutto quello che riceviamo viene dato ai nostri assistiti, quindi per noi questa è una grande grazia. Poi ha visto quante cose che vengono donate dalle persone che veramente ci aiutano ad aiutare i poveri. Poi in un momento di crisi come quello che si sta verificando a Gela. Veramente, perché la crisi è grande, ci sono i problemi dell'Enichem e molta gente va via, molta gente senza lavoro e quindi si ritrova ad essere in uno stato veramente bisognoso. Come vuole la tradizione, la Sacra Famiglia si siede a tavola e incomincia a mangiare le pietanze preparate, la pasta fatta in casa con i legumi, il pesce fritto, l'uovo sodo, la frutta e il dolce. Infine, la parola ha diritto, la promessa è compiuta.